Vabbè Certo Sì, sì Vabbè, allora Ma cosa è accaduto? Cioè, ma voi siete un idiota Vabbè Demmi di più su Nyx il troll Tanto lo dovrò affrontare sicuro Asi in his ballad, Nyx ran when he saw Crep and Error arrive He is clearly under the maid's curse And maybe doing her bidding He ransacked the cottage and made off into the night His gigantic arm piled high with fake hairs My fake hairs It is a tale of what happens when one wishes to become something he has not In this case, the subject of the song was Nyx, the troll A loussome, pitiful brute As a jest, the maid of Windermere enchanted Nyx into believing he was an ordinary man He attempted to settle in a pleat mortal village to predictable disaster When the night's Crep and Error arrived They treated him like the man he wanted to believe They challenged Nyx to a gentlemanly bull And slew him in fair combat Ah, vabbè Her nearest letter is Sundarcaverns, or her minion Nyx makes his home It is a craggy pit and haxie, east Va bene Ah, ricopriamo le lepre poetiche E poi dovremo scontrarci anche con il troll Nyx Ah, ok Allora, che altre poetiche? Ce ne sono due qua No, è possibile Davvero Recupera le lepre poetiche? Recupera le lepre poetiche Soltanto due? Non sono un po' poche Vabbè, ricopriamo le lepre poetiche Ciao Morgan, ci vediamo un'altra volta C'ho voglia di giocare adesso Ti aprierti come un accolto Allora Ma tra l'altro abbiamo scoprito anche sta caverna Oh, ma che è successo? Ah, vabbè Speravo non li vedessero Invece non ho visto Ciao Morgan Piedere tra porti Oh, così Lasciata cadere per sbaglio Oh, che fa? Ho fermato la tua avanzata? Ti sei scontato sul mio arco e le mie frecce? Ok Caverna di Sundur Ah, capace che qua stanno le altre quattro Ok Sì, sì, sì Oh, che ci abbiamo qua? I due cavalieri Armor E Cret Va bene Allora Parla di Hallam e il bianco Quindi Le ballate servono perché tutti i fai riconoscono e ricordino le ballate Ma Hallam e il bianco ha fatto in modo E si è impegnata affinché le sue ballate non venissero conosciute da nessuno Ma non è un po' sospetto Nel senso Probabilmente non ha nessuna ballata e si fregge di un titolo avuto con l'inganno No, l'ha avuto là Parlami un po' di te Parlami di Sir Crest Che è tipo Super Mario, Mario e Luigi Sir Eimer è Mario, Sir Cret è Luigi Stas Pada Che è un po' sospetto Che è un po' sospetto Tu e io possiamo parlare? Che scontroso Dai, fai domande, quarto e cinque centesimi Sì 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 La cosa è più carina Qualcuno per Sancio? Vabbè, poi ve lo dico dopo Non voglio spoilerare nulla Ah, altre pietre Oh Cosa è il tro... No, no, è un orso Statevi fermi Fermo, fermo, fermo Ci penso io qua Che voi siete veramente degli idioti Allora, vediamo che trovo Niente di interessante E loro se ne sono già andati Perché vabbè Allora Davanti c'è una tetra poetica Figuriamoci Eh, lo so Sono io, sono io Senza di me Non c'è La prossima estate, probabilmente Stavate ancora qua Ah, sì Ah, ah, ah 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 Lo facciamo là Dov'è Altre pietre Ah, che parte Grazie a tutti Oh! Però... Ah, quanto rompì! Ok Ok Trovo l'ultima che dovete fare Forza! Perandroni, muovetevi! Oh! Ah! Volevo prendere le spalle, ma così è impossibile Eh, già l'hanno attaccato Non lo posso attaccare anche alle spalle, eh? Va Oh, oh, oh! In questi, ma? Oh, oh, oh! Lasciamo fare a loro, io l'attacco Alle spalle Grande Eh, intanto Ok Non è più la vostra ballata, cretini! Li suoi paese! I miei usi? Volevo Ah, vabbè! Oh, vabbè ... Bye! Bye! Siendo poi e invece io procedo da qua andiamo a casa delle pallate e riferiamo allora allora io andavo alla biblioteca delle pallate giusto? devo riportare le pietre fai che sono un tipo di registratori ok ok eccoci qua eccoci qua eccoci qua un po' mi fanno bene a questi troll eccoci qua 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 ecco 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 allora parte 1 la 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 Loro decreto è gentile? Ma insomma Quello che lo è in persona è un diota Loro 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 amicizia ah si si sei un umano facciamo un duello regolare visto che i troll sono alti e possenti hanno ste mazze di legno un duello regolare tipo a suon di spada e l'hanno ammazzato così vabbè ma se noi ci facciamo amicizia ah no ok allora è uno stronzo allora l'ho fatto bene ammazzarlo ok quindi è stato Lord Cretta a sconfiggere Nyx the troll still under the wicked and was human and all is well rampage throughout the countryside in joy treating all as place Lord Airmer slowly approached him and said if you are human deal as such a state faith us if that is your fate fuel us and reveal the truth of your state then the troll and fey did battle and fought alas all was not as the troll hath thought ma se anche scusa eh come fanno due troll due fai così debrucci a battere un troll per quanto si credesse un umano sapeva di avere una forza sovrumana cioè comunque andava per le campagne distruggere tutto ciò che gli capitava mura intere come fa aver perso contro due fai poco credibile come fosse un insulto no 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 but but it be your wish to join their kind a better way you must find there is not wrong with faulting your will as long as it does not bring others in again the heroes of honor stay true the story of a troll Ah, vabbè, poi alla fine dice Lord Gret, chi dice Vuoi essere umano? Va benissimo Però non andare in giro a ammazzare gente come un troll, è un porto di umano Che non è che gli umani non siano persone infite, però, vabbè Ehm Ora sei mortale, vai Affrontaci, rivela il tuo vero aspetto Oh, oh, sì, vabbè, se non sto maledetto Eh sì Ma forse questa Ma come è possibile? Ora sei mortale, no, sei un umano, non è che sei mortale Nob Ah no Ma già me l'ha detto Già me l'ha detto Ma me l'ha detto Niente Ma mi dici cosa che mi hai già detto, che senso c'ha Allora Un po' di controsenso con la storia, sono ancora maledetto? E se sono maledetto Che maledizioni c'ho addosso? Le maledizioni sono Malus Curare soltanto con un guaritore Sennò vi rimangono tutto il tempo Allora vediamo che cosa c'ho addosso in caso consulto un guaritore Se sono invece cose risorie, se c'è lì addosso Rigenerazione umana e le senza danni, insomma Cose che non influiscono sulla percentuale di danno in flutto Ok, ok, ok Sono già arrivato, ammazza A volte ci mette poco Casa delle ballate Vi devo avvertire È pericolo imminente Intanto qua c'è il guaritore Grazie, grazie Allora, prima andiamo dal guaritore Così comunque me le doigo queste maledizioni E poi andiamo ad avvertire Reu Hansen Allora Grazie Magari Magari Oh, che è successo? Dove è? You may search the empire ten times over But you will not find your bill of advance Nor his foolish court of entrance They, like you, are mine Dream of me, love you But we shall be together soon The time is coming Guardi, sono molto contento di aver trovato una stalker così dedita Però Però Ne ha già troppi Cioè Non voglio fare il numero E poi Insomma Ho detto tanto le ballate Ma Anche voi vedo che Vabbè Vabbè The maid Sai com'è L'eroe umano Che va contro gli schemi E trova le soluzioni Si adatta Quello fanno gli umani Si adattano Cos'è l'ora la dama? Che bastardo Tutto per un punto di gloria If the maid Is truly altering Her volutes Towards Mere Favorable Outcomes For her And her Minutes She could rewrite Her In denial She could avoid Altogether You are no stranger To death So you must have felt It The fall Of all magic I have Forseal Pussies With a small Group of Dedicated Individuals Fae And mortal The kerns Are the result Of this They are magic The magic That we're not there Ok E adesso I knew I could count on you In the face of uncertainty Your loyalty has prudence At last It is no use for us To combat the maid of women When we do not understand Her new magic There is a new man I know Who might shed light On her goodness His name is Father Etero He is a monk An alchemist And a trust Friend Uh-huh Va bene Dov'è? Va bene Sì Allora Troviamo padre Ah Mi sa che ci siamo Già stati Eh sì Per rubare Il drappo Mi sembra Per Ignoranti Hmm Hmm Grazie a tutti. Padre, 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 oh, cosa sta? Padre, ti arre, scusi, c'è nessuno in casa? Cosa è una pesa per il culo? Oh, 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 che è successo? Oh, cavolo. Padre, ma che cavolo hai fatto? A parte come si esce? Ah, accidenti. Cavolo. Chissà se stanno qualcosa sui seguaci, suoi adepti, fratelli, insomma. Allora... Ah, ognuno ne sapete nulla. Vabbè, vabbè, un po' su della nazione. Ma chi è Wolf? Io lo so, non lo dice, no. Allora, Mitaru è Dio. Allora, la missione di San Edric. Allora, la missione di San Edric è trovare l'orda in la natura, in ogni grado di grassi, in ogni grado di grassi, in cura di leaf. For questi designi sono le loro più beguile. Questa missione è stata fatta 20 anni fa. Le gardeni in Fauna pensi sono la idea di Padre Etares. I marvelledi a Pithari's gifts, la magia e la worde around us. Non posso aspettare tanto. Dimmi un po' di te. Sei stonco di saccheggiare. No, non vedono di bonocchio voi, quindi. No, non vedono di bonocchio voi, quindi. Lo vorrò litigio? Tra chi? L'ha adrenato. L'ha adrenato. Ah. Dimmi un po' di fratello Wolf. Ok, a parte qua è pieno, pieno di erbette. Quindi, per fare l'alchimia è perfetto. Certo, potete essere schillati abbastanza in alchimia per prendere tutte le varie erbette, però... Ok. Allora, mi par... Ah no. Dovevo entrare qua dentro? Perché? Ah, si taccia lo studio. Ah, là c'è un forziere, tra l'altro. Se non l'ho già preso. Allora, si taccia lo studio. Oh. Cristale dello scavo del pozzo. Si parlava del pozzo poco prima. Quindi andiamo un po' a... Vedervi che si tratta. Che cosa c'è in questo pozzo? Di così importante. Allora... 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 Scendiamo nel pozzo. Scendiamo nel pozzo. Scendiamo nel pozzo. Allora... Allora... Oh. Trova cristalli mancanti. Vediamo un po'. Ok, ci sono i coboldi. Quindi questo pozzo non era disappitato. Allora, vediamo un po' cosa troviamo. Niente di utile. Bull è troppo. Niente di utile. Oh, un altro forziere. Devo guzzare la pista qua. Sennò mi perde i forzieri. Oh. Di sinnescata una trappola. Altra trappola di sinnescata. Fimata che vuoi. Sono rimasto solo bello, eh. Ah, già. Tutti questi coboldi. Preoccupante. Un altro trappola. Un altro trappola. Cos'è che state nascondendo? Tutte queste trappole. Oh. Oh, ma quello sta scappando. Scusa? Eh, che cos'hai? Nella mano. Trova. Ah, i cristalli. Salve. Eh beh. Perché non rimane la distanza? Eh, allora. Cristalli mancanti. Eh, dobbiamo comunque scendere. Si scende. Ok. Allora. Allora. Oh, non ho notato. Arco lungo. Ora vediamo se è migliore del mio. Cioè, se non trovassi uno bello viola, bello cazzutello, no, eh. Arco. Allora. 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 Ok, altro cristallo recuperato, qua c'è un forziere, nulla di interessante, qua c'è un forziere, un modo interessante, guarda che non hai più dove scappare, oh, grande, grande serie di attacchi, complimenti, cristallo, ci sono altri forzieri che non vedo, sì, qua, vediamo un po', se l'arco che abbiamo trovato è più meglio, manco del cavolo, no, ok, ah, fratello Wolf, è un po' confuso, è un po' confuso, l'anello del potere, citazione, è un po' confuso, perfetto, lo immaginavo, furbo, bravo, ah, ecco, eh vabbè, eh vabbè, l'auto, allora, oggetti, assegna, l'auto, l'auto, eh, l'auto, 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 allora, torno da ala nel bianco, Allora, dai, 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 torniamo un tallame bianco facciamo inserire cosa abbiamo scoperto prima mi volevi con te e ora mi presentirò, decidi ti va bene no 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 va bene allora ti preoccupi per me? oh grazie però scusa da e se bene e ha a a per aver fatto l'intenzione. L'Elfmen gloriously overcame Windmear's defences, but it was on the edge of the Weeping Gorge that the Maid came to him and clouded his thoughts. Now he stands forever as the Maid's lone champion, defender at the gates. All who wish to enter the kingdom of Windmear must go through Indemar. Un po' minute. Sì, è l'ora, sei la ultima notte della House of Balance. Voi rappresenti tutto ciò che abbiamo fatto, tutto ciò che siamo, in questo raccontamento e tutto ciò che avviene. Non c'è nulla che puoi fare per preparare per la giornata di morte, ma prendi un'altra potenza di risurrezione, come quella che hai usato, per salvare un'ora. Ottimissimo. Ottimissimo. Ho capito. Allora. prima di tutto andiamo a vendere perché ho troppo lo zaino pieno e poi ci avventureremo per raggiungere l'entrata mi pare che c'è un campione da battere da quanto ho capitato dall'ammil bianco però poi salviamo lì perché merita un'attenzione approfondita diciamo questa ultima parte medio un attimo ce l'ho fatta incredibile allora ora non solo se ho sincero Ok. Allora... Andiamo. Quanto manca al prossimo livello? Non molto. Poco, in vero. Ciao, Bagart. Ma se giro non ho tempo di giocare con te. Dai, Bagart. Lascia me sta. Oh, un forziere. Non è interessante. Eccoci qua. Oh. La facciamo fin da ora? No. Dov'è? Vabbè, chi siete? Oh, c'è la mia. Oh, c'è la mia. Ah, vabbè. Vabbè, tanto. Certo. Certo che tu non hai proprio volto compare? C'è. Allora. No. 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 del sapere così si stanno ammazzando di botte no 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 non voglio ecco guarda un po che ci sta anche loro ho colamento via piata sirena ecco ecco questa è la prossima volta ora parliamo con sire crette ecco 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 Allora, la prossima volta dobbiamo scegliere chi di due combattere La prima volta io ho trovato Silheimer più simpatico combattuto contro Silcrette Questa volta combatterò contro Silheimer Anche perché Silcrette è gentile sotto sotto almeno le ballate Bene, per questo è il peso di tutto quanto Io vi saluto qua e condivido il video Magari io vi consiglio di guardarvi alla velocità 2x se non l'avete ancora fatto Ma forse lo dirò all'inizio del video E iscrivetevi al canale, possibilmente Attivate la campanita E niente, ciao ciao